L'auditorium Casa della Pace, Angelo Frammartino di Caolonia, ha ospitato oggi un evento significativo dal titolo Dietro la Scena, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La manifestazione, organizzata in collaborazione con diverse realtà istituzionali e sociali, ha coinvolto studenti, autorità e relatori di rilievo, con l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della violenza di genere. Una giornata importante, io dico che si vince quando questa giornata non ci sarà più e dobbiamo impegnarci tutti, istituzione, società, società civile, tutte, dico quando si dice tutte, dice tutti, perché fatti brutti un femminicidio ogni 72 ore non è concepibile in un paese evoluto, democratico ed importante. Quindi lavoreremo con ogni mezzo e con tutte le nostre forze perché ciò non accada. L'unione, la forza, l'educazione a contrasto alla violenza di genere sono tra le priorità della Commissione Pari Opportunità, io le Santelli, che lavora instaccabilmente sul territorio per far trapelare e passare a quelli che sono dei messaggi di unione e di solidarietà, in contrasto a quello che è invece un problema dilagante della violenza e dei sopprusi a danno di una categoria che soffre e subisce fino ad arrivare a quelle che sono forme di femminicidio per il solo fatto di nascere e di essere donna.